è un saxo brano marca slade nichelato argento con attacco per il legio in buone condizioni il bocchino è suo che c'è in dotazione a 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